E adesso vi presento lo Storyteller, cioè quello che viene con me, partendo dalla considerazione che conosco di gran lunga molto più lui che non David Göttler e neppure Denis Urubko o altri, visto che abbiamo fatto le scuole medie assieme, poi abbiamo cominciato ad arrampicare assieme, abbiamo fatto le prime gare d'arrampicata, poi abbiamo fatto l'università assieme, siamo entrati insieme nello sponsor della nostra spedizione, la North Face, e quindi non è una cordata nuova. Però è la prima volta che io lo invito a venire in spedizione, a parte nel 2009, quando siamo partiti e poi i cinesi hanno chiuso le frontiere con il Tibet. E quindi adesso gli chiedo e gli chiediamo ad Emilio come mai si è deciso di venire. Io ho deciso di venire perché sono appassionato di montagne, sono appassionato di sport, sono appassionato di racconti e soprattutto sono una persona curiosa. A me piace vedere, mi piace l'idea di vedere l'Himalaya d'inverno e mi piace di vedere lo sforzo di qualcuno che tenta di arrivarci in cima. Mi piace l'idea di essere partecipe di questa cosa e quindi alla fine quando mi hai chiesto di venire in realtà ci avevo già pensato prima. Per me andare in una spedizione del genere vuol proprio dire confrontarmi con la realtà, vuol dire essere lì e capire. In questi anni ho sentito un sacco di alpinisti chiederti di venire e poi misteriosamente tanti di questi alpinisti spariscono due o tre mesi prima di decidere che bisogna andare e quando mi hai chiesto io ho detto che volevo fare una cosa diversa quindi sono contento di esserci. E dal Pakistan cosa ti aspetti? Visto che in Nepal sei già stato, in Tibet sei già stato, quindi in Himalaya sei già stato, seppur fa parte dell'Himalaya, il Nanga Parbat, siamo già in Pakistan, veramente per pochi chilometri non è una montagna del Karakoram e quindi immagino che la curiosità sia anche di un paese diverso con religioni diverse, aspetti diversi, anche dinamiche e logistiche diverse. Mi sbaglio? No, beh sicuramente la componente del viaggio, la componente delle montagne, dell'ambiente credo che sia una delle cose che fa la differenza principale in fondo alle persone, almeno io vado sulle montagne perché voglio conoscere gli uomini e gli uomini non sono solo gli alpinisti ma sono anche quelli che vivono ai piedi delle montagne o cercano di, come dire, di sopravviverci intorno e quindi per quanto mi riguarda c'è la curiosità non solo di vedere o salire il Nanga Parbat ma c'è anche la curiosità di conoscere queste persone qua perché ci dimentichiamo spesso che poi le montagne sono di tutti, sono degli alpinisti ma sono anche di quelli che ci vivono da generazioni. Possiamo dire che Emilio venendo in spedizione ha già portato una sua piccola influenza positiva alla spedizione, ad esempio rispetto al 2012 quando andai con Denis dove ci portammo le racchette da neve, quest'anno mi sono riportato delle racchette da neve perché c'era stata tanta neve quindi per portarci avanti e indietro. Ecco, venendo Emilio che è un famoso e conosciuto snowboarder, sciatore e telemarker la prima sacca che è apparsa quando ha portato la sua roba è stata la sacca degli sci e poi magicamente sono apparsi gli sci di David Göttler e ieri sono scivolati dentro anche i miei sci i miei scarponi nelle sacche e quindi è una spedizione che parte anche con gli sci e riallacciandomi anche al discorso precedente dell'acclimatamento io ho fatto vedere delle fotografie a Emilio qualche mese fa di cosa c'è intorno al Nanga Parbat d'inverno e cosa ti aspetti? Ti faccio la domanda da questi attrezzi che hai messo nella sacca. Raccontiamo la giusta faccenda, diciamo che tu per convincermi a venire hai fatto un giro molto largo e hai cominciato a parlarmi dello sci, hai cominciato a parlarmi delle montagne che ci sono in giro al Nanga Parbat dove si poteva andare ad acclimatarsi e poi dopo io ho capito come quando vedi una boccia sul biliardo che lentamente si avvia verso la buca ho capito dove stavo andando a droppare. Mi aspetto di conoscere delle montagne bellissime di essere lì, di essere in azione e soprattutto gli sci credo che possano essere uno strumento per muoversi veloce e a volte possono essere anche uno strumento per muoversi veloci per conoscere i versanti, anche in un certo senso uno strumento di sicurezza perché vuol dire per esempio muoversi con una certa velocità, poi vuole anche dire che diciamo noi li useremo per acclimatarci, oggettivamente uno scarpone da sci non è adattissimo ad affrontare l'inverno della cima di una montagna di 8.000 metri però noi intanto li usiamo e poi ci penseremo. Un'ultima domanda, ho visto che con David che non avevi mai incontrato prima di qualche mese fa ci è stato dato subito un bel rapporto, però tra l'altro un bel rapporto quando intendo è anche di quelli senza tante false cortesie che siete sintonizzati mi sembra molto sia sui discorsi filmici ma anche sui discorsi di approccio a questa montagna mi ha fatto piacere sapere che vi sentite spesso senza che io sia in coppia non è che vi sentite perché si diglia Simone e questo è una bella cosa ti era già capitato prima, è lo stesso tipo di feeling che senti con altri prima di una spedizione o è qualcosa di diverso? Io penso che gli alpinisti per stare bene insieme e per essere veramente una cordata devono un po' annusarsi, devono un po' capire con chi hanno a che fare e le cordate sono fatte da persone che immaginano e sognano le stesse cose una cosa che penso io è che a me piacciono le persone è una cosa che mi piace delle cose che ti ho visto fare e che ho visto fare a David mi piacciono le persone che all'inizio chiamano le loro idee, le chiamano sogni e non usano, solo in un secondo tempo usano una parola progetto ecco una delle cose che mi è piaciuta di David è che mi ha sempre parlato di questa montagna come di un sogno e razionalmente ha immaginato insieme a noi un percorso per arrivare lì e mi aspetto che sia anche una persona che quando è sul campo mette davanti il progetto e il sogno lo tiene solo di sottofondo questa è la lucidità di cui credo hanno bisogno gli alpinisti e queste sono le persone con cui mi piace andare in giro è il mio modo di fare cordata quindi sono veramente positivo sull'idea di essere insieme anche per così tanto tempo al campo base